Giornata all'insegna della solidarietà, dello sport e del ricordo di Pardo Stinziani, quella che si è svolta lo scorso 12 aprile a Bugnara. Il secondo Memorial Pardo Stinziani, organizzato dall'Associazione Sportiva San Giuseppe, ha voluto ricordare la memoria di colui che fu il promotore della corsa podistica Contrada di San Giuseppe, giunta nel 2013, anno della sua scomparsa, all'undicesima edizione. Un'altra giornata di sport. Nello stesso tempo stiamo ricordando il nostro amico, l'amico Pardo Stinziani, il secondo Memorial. Un amico che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, era un vero amico dell'amministrazione ma di tutta la comunità. È stato insieme ad Agostino l'ideatore e il fondatore di questa associazione, l'Associazione San Giuseppe, un'associazione che lavora a 360 gradi, cura dai giovani ai meno giovani e agli anziani. È un'associazione che comunque ci sta dando grosse soddisfazioni all'amministrazione comunale e noi li stiamo controcambiando con strutture nuove. I bambini da questi momenti in voi possono avere un momento veramente più dedicato allo sport, alla vivacità, alla solidarietà, all'allegria. Perché il Memorial è anche questa, all'allegria. Pardo aveva sempre il sorriso sulle labbra, aveva sempre quell'indice all'insù e che significa che noi dobbiamo andare avanti con i suoi insegnamenti, con tutto ciò che ci ha lasciato. E sicuramente, anche se è il secondo anno che Pardo non è qui tra noi, sicuramente dal cielo ci sta osservando. Grazie.